Arrestato dai carabinieri a Dalvito, un 57enne del posto con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione. I carabinieri durante le indagini da tempo avevano notato movimenti sospetti vicino all'abitazione dell'uomo. C'era un viavai di ragazzi italiani e stranieri, così i carabinieri hanno deciso di procedere alla perquisizione della casa, sospettando che fosse uno spacciatore anche se non figurava nessun reato a suo carico. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato nascosti in vari mobili della cucina 200 grammi di marijuana, una trentina di grammi di hashish e circa 5 grammi di semi di canapa, nonché vario materiale per il confezionamento, bilancino di precisione, buste termosaldate in celofan. Inoltre all'interno del seminterrato veniva trovato materiale storico e archeologico del quale non veniva dimostrata l'alliscita provenienza. Si tratta di due reperti in pietra riproducenti delle figie umane, delle dimensioni di un palmo, di due anforetti in terracotta danneggiate, delle dimensioni di un uovo e di un corredo permessa da campo, racchiuso in una valigetta contenente due piccoli candelieri, un asperzorio e un crucifisso in ottone.